Ciao, in questo video vi mostrerò come fare uno spinotto LNB o F con il cavo grosso e piccolo e giuntarlo. Incidiamo e rimuoviamo la guaina senza tagliare la calza interna. La calza e il foglio in alluminio sono importantissime. Il foglio in alluminio lo accorciamo e poi ci arrotoliamo la calza in modo stretto. Incidiamo la seconda guaina. Usiamo uno spinotto rosso che sono quelli che si usano per il cavo piccolo. Poi ci possiamo avvitare lo spinotto sul cavo. Tagliamo la parte in eccesso. Se si vuole assicurare la presa in modo che non si stacchi lo spinotto, si può aggiungere un po' di nastro. Questo è il risultato finale. Mettiamo lo stesso lavoro però con il cavo grosso e usiamo lo spinotto di colore giallo. E alla fine avremo questo risultato. Adesso prendiamo un giunto per connettore F e lo avvitiamo. No. Quindi 온veni sono arrivati spiro. Questo è il risultato finale Se il video vi è piaciuto mettete un like Grazie, ciao!